e poi tanto in tante partite da registrazione arriverà l'avviso anche della diretta e poi partiamo ecco allora buonasera ben trovati al consiglio appuntamento del lunedì letterario di fare futuro oggi diciamo puntata inedita perché di fatto presentiamo due volumi in un colpo solo i volumi che presentiamo stasera si intitolano sono due volumi fondamentalmente di una specie di raccolta di cui ci dirà poi l'autore tra un po' destra italiane volume 1 l'ideologia delle destre politiche in italia dalla destra storica alla destra radicale questo è il volume 1 è il volume 2 è stesso titolo e poi come sottotitolo dalla destra post fascista al neoradicalismo di destra l'autore è rodolfo capozzi che ospite nostro buonasera a tutti grazie del invito grazie a te per essere con noi allora rodolfo io partirei da un dato appunto diciamo personale tu sei avvocato e ti sei dedicato a questa ricostruzione storica di fatto della destra italiana partendo appunto alla destra storica e quindi a prima domanda mi viene in mente come mai un avvocato si mette a fare un'operazione del genere sì perché poi tra l'altro io ero un avvocato penalista che diciamo è una razza a parte nell'avvocatura cioè proprio è un lavoro diverso molto diverso non so dal fai l'avvocato civista ma un ministro di vista un lavoro molto particolare delicato che richiede sostanzialmente anche una grande concentrazione che non ti permette sostanzialmente di fare niente di diverso e però c'è anche un passato che non rinnego di militante politico nell'area di centrodestra io vengo lo dico ma perché forse può essere poi utile anche per giudicare meglio il mio lavoro vengo dal partito libera forza italia e diciamo che grossomodo la mia autoconnotazione politico ideologica appunto che di questo stiamo parlando e una destra libera conservatrice quindi e questo è importante per esempio per parlare dei primi due volumi di questo libro e non appartengo assolutamente alla tradizione missina non ho mai avuto un momento sociale e quindi la mia storia politica piccola storia politica è diversa però ovviamente una storia moderata ecco è rimasta nell'alveo libera diciamo di una destra libera conservatrice definizioni ovviamente necessariamente un po schematiche se poi poi ci torniamo sopra perché è questo è il bello e il difficile pure di questo tipo di lavoro un lungo passato di militanza che è sfociato perfino in una candidatura avventurosa al comune di roma quindi dopo un'intensa attività politica ho sentito un po il bisogno però di leggere di studiare e ho cercato per esempio memore di un vecchio libro di roberto chiarini che si intitola destra italiana uscito tanti anni fa cercavo un'opera che parlassi un po di tutte le destre politiche in italia o perlomeno non solo della destra missina e post missina anche qui poi se poi ci torniamo perché sono definizioni piuttosto discutibili da discutere ma che in qualche modo facesse riferimento anche alle altre destre certamente spesso misconosciute o dittura sommersi che ci sono state in italia praticamente mi accorgo che quest'opera non esiste non c'è ci sono delle dei pregevoli saggi risalenti del tempo non molti che sono più o meno penso tutti diligentemente citati nelle bibliografie di questi due libri che ovviamente sono un punto molto importante di di questo tipo di opera ma non esiste uno studio sistematico uno studio completo su tutte le destre e politiche in italia e già su questo si potrebbe aprire un dibattito non esiste perché sappiamo bene penso che voi lo sappiate meglio di di altri che la tradizione culturale in italia l'industria editoriale italiana ovviamente è sostanzialmente chiusa a destra a un rapporto con la destra molto difficile e infatti le opere migliori e anche destra italiana l'opera di chiarini che cito perché ovviamente il titolo anche un omaggio a professor chiarini che adesso il 20 giugno mi farà il grande onore di di presenziare a una presentazione che sto organizzando perché la fortuna vuole che lui si è a roma quei giorni e mancava e allora l'idea un po' folle di di scriverla io nel senso che comincio questo lavoro quasi per caso alla fine poi è stato sostanzialmente ecco veicolato poi da dal lockdown che mi ha permesso una pausa dal mio lavoro di penalista allora veramente molto impegnativo e per cui nasce quest'opera e diventa diventa una cosa abbastanza importante in termini quantitativi ecco sulla qualità io dico ma con orgoglio anche perché marco gervasoni che mi ha fatto la prefazione al primo volume mi ha detto di dirlo sempre in pubblico da autodidatta comunque da una persona ecco che non ha nessun titolo accademico non sono mai stato un giornalista quindi ho fatto altro nella vita ho fatto l'avvocato penalista per circa 15 anni scarsi e se non un passato di di militanza politica questo è un fatto solo importante perché forse l'ideologia politica è una cosa così importante del fare politica che si come autorizza anche i militanti militanti di strada cioè i militanti pure che poi magari non hanno mai ricoperto incarichi istituzionali diciamo cariche politiche elettive beh la militanza dovrebbe essere qualcosa al cui base c'è la passione e l'ideologia l'ideologia che è una parola di detta da brutta brutta parola qualcuno ha deciso che è una parola desueta un po' fascistoide e pericolosa invece secondo me vive e vegeta molto bene e molto importante ed è il succo di fare politica la politica che tu puoi pure nutrire di grandi idealità di grandi passioni però sostanzialmente diciamo l'ideologia è l'ideologia è l'essenza è proprio la cifra del fare politica tant'è che poi la forza di oggi è tale che secondo me appunto influenza e ha influenzato anche per esempio la cultura e l'industria editoriale italiana col punto che per motivi ideologici noi abbiamo una buona industria editoriale di sinistra abbiamo molti studi buoni fatti da sinistra sulla sinistra non abbiamo buoni studi sulla destra sono molto pochi sia sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo poi penso che su questo se voi ne ripartiamo mi hai fatto venire in mente una cosa che sono politologo di diciamo come disciplina insegna scienza politica all'università e in effetti gli unici due libri di politologi sulla destra italiana sono i due politologi dichiaratamente di sinistra esatto sull'MSI quando scrisse il polo escluso c'è recentemente Salvatore Vassallo fratelli di Giorgia Salvatore Vassallo è stato addirittura deputato nel PD assolutamente ho due ottimi lavori nonostante i meriteri sforzi di fare il futuro certamente c'è una carenza da questa parte perché purtroppo io adesso lo posso dire perché insomma sono anni che sto scrivendo questo libro sto lavorando anche sul terzo volume poi ti dico perché il progetto editoriale è ancora più vasto, merizioso e forse folle però il materiale è poco già di per sé buona parte del materiale che ha una providenza di destra non è un granché nel senso che spesso abbiamo visto cioè o le autobiografie, le memorie oppure dei libretti francamente apologetici insomma propagandistici ne sono usciti anche diversi sulla Meloni ultimamente da destra in ordine di tempo con Fratelli Italia e Giorgio Meloni ovviamente adesso è un tema di attualità nel secondo volume ne parlo io però mi fermo prima infatti sono uscito quasi casualmente proprio poco dopo la vittoria elettorale perché sai bene che un libro insomma si ferma per prima e poi non era mia intenzione fare un instant book perché non mi sono mai piaciuti e penso che non sarei stato capace di farlo eccetera però ecco c'è una grave carenza poi certo ci sono anche degli studi di sinistra abbastanza buoni Ignazzi non è male però ovviamente se lo leggi in controluce c'è questa fortissima insomma pregiudizievole insomma che a volte poi sconfina pure nel giudizio morale moralistico e quindi diventa politica pura non non c'è stato l'unico momento l'unico rinascimento l'unico momento di minimo florileggio è stato sostanzialmente nel 94 in poi quando appunto c'è stata questa grande rivoluzione politica in Italia perché il centrodestra è nato sostanzialmente dopo il secondo dopo guerra c'è stato lì un momento interessante anche culturalmente forse le cose migliori che sono state scritte e lì c'è stato anche un po' risveglio forse poi i pochi intellettuali di destra o di centrodestra poi non di sinistra hanno preso coraggio hanno 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 dato il meglio di sé purtroppo questa stagione adesso è finita adesso la destra è tornata al governo però l'impressione insomma è che chiaramente è un momento molto diverso dal 94 e dove poi ci fu innanzitutto infatti io lo cito doverosamente c'è il famoso libretto di Bobbio che infatti ecco proprio plasticamente veneziani il buon veneziani che è un intellettuale che mi ha dato il nostro rispetto la nostra ammirazione cerca di rispondergli no insomma ci prova e lo fa secondo me anche con buoni argomenti e io l'ho uscito da da bravo militante aspirante stregone saggista però chiaramente percepisce oppure anche tu insomma ti convinci che abbiamo sono due registri diversi no e quindi insomma il crinale è molto lungo e bisogna 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 fare certamente anche un mimo di autocritica ma senza cadere guarda un po' nei due comuni abusati che a destra la cultura non va a destra la cultura non piace Giorgia Meloni che adesso chiaramente diciamo in sera è diventata una sorta di cona onnicomprensiva di tutte le destre non ama praticamente la cultura però la situazione è tale per cui un divario storico perfino ancestrale che certamente poi forse riposa pure nel peccato originale che questo paese ha avuto vent'anni dittatura fascista eccetera mi pare evidente chiaramente noi che possiamo chiedere alla sinistra di riempirlo se non lo riempiamo noi che in qualche modo ci situiamo in quest'altra metà campo è anche la ragione per cui recentemente a destra si è recuperato molto Gramsci no? si perché quantomeno il suo concetto di egemonia culturale quantomeno la sua idea di provare a non dico imporre però insomma a vincere la sfida e le idee rispetto appunto alla controparte ma secondo te perché tu giustamente hai ricordato che negli anni appunto 94 95 con la svolta di Fiugi non a caso nasce appunto la prima destra di governo eccetera e quello fu in effetti un periodo della Ficichella Martino Antiseri Colletti insomma in parecchi anche parecchi intellettuali appunto erano vicini se non dentro i partiti e oggi non è più così non è più così da un po' credi che sotto questo profilo ci sia stato proprio un rapporto diverso tra intellettuale e politica tra destra e sinistra cioè sono è stato un rapporto più breve e più conflittuale a destra tra le due categorie diciamo guarda è difficile perché purtroppo ci vuole sempre molto tempo prima di capire le cose come stanno da questo punto di vista quindi paradossalmente forse devono passare ancora un po' di anni così capiremo quando appunto diciamo c'è un po' di calma piatta qual è la verità il rapporto certamente è stato molto più difficile perché la destra storicamente non ha bisogno della cultura o ne ha molto meno bisogno forse questa è la grande ipoteca che ci portiamo in via il retaggio del fascismo perché il fascismo che è stata nel bene o nel male una grande esperienza di destra ha dimostrato che poteva essere ideologia in movimento cioè politica in azione e tutto sommato tutto il corredo politico culturale ideologico era secondario era non necessario mentre dovrebbe essere il contrario cioè nel senso che per quanto io ho scritto perché ne sono convinto ma non so se l'ha detto qualcuno e quindi l'ho introiettato senza citarlo e me ne scuso non sono cioè è l'ideologia che dovrebbe creare i partiti e non viceversa io sono convinto che è ancora così però certamente le differenze sono sono evidenti tu per esempio se pensi e io ne parlo nel primo volume non so ecco un personaggio come Armando Plebbe dentro il momento sociale ecco la dice lunga su momento sociale che era a un certo punto l'unica destra riconoscibile nel parlamento parlamentare italiano era un personaggio eccentrico anche valido culturalmente che però sostanzialmente Almirante chiama ma non dico come specchietto per all'odoro perché vi stimo troppo entrambi ma certamente che ha una funzione ecco quasi complementare diciamo ancillare a quella che poi rimane sostanzialmente sostanzialmente insomma ecco un'impostazione che per esempio ancora prima vede contrapposto Evola e Almirante no? Almirante dei rimbrotti di Evola che io cito mi sembra forse nel secondo volume se ne impipa cioè nel senso che pur riconoscendogli il sistema di essere uno dei padri spirituali eccetera ma si sente abbastanza sicuro di sé come leader come capopartito come figura di riferimento da poter dialogare non solo sullo stesso piano ma sempre ecco da una posizione superiore rispetto a quello che dovrebbe essere proprio l'intellettuale per Antonomasia più di un intellettuale come un maestro di vita per la destra radicale non solo anche per la destra missina e questo ecco la dice lunga e non è passato purtroppo nelle altre destre la situazione è ancora più difficile perché essendo ancora più miniaturizzate il loro rapporto con la cultura è ancora più minimale no? e quindi è in dodicesimo e le cose purtroppo non non forse se si poteva noi non dobbiamo non dobbiamo rimanere legati al passato ecco è stato un peccato che si è perso la spinta veramente quella ventana di aria pura col 94-95 dove tutto sembrava possibile io ero abbastanza giovane però me lo ricordo nel senso che si è passati ecco è stata quasi una no? un miracolo quello è stato il vero miracolo italiano mi pare che lo scrivo cioè nel senso che a un certo punto la cultura di destra viene sdoganata e la sinistra è costretta a accettare sull'umiliante sconfitto elettorale un confronto anche culturale che però arriva fino a un certo punto perché per esempio uno come Bobbio i suoi correttori di destra o quello di sinistra non li viene neanche in considerazione quindi c'è questa geniale politica no? questo trova un grosso errore questo per esempio ecco per esempio è uno dei punti deboli di Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia e la Giorgia Vero debbbero stare molto attenti perché sottovalutare nel lungo periodo l'impianto culturale ideologico di un partito di un partito che adesso ha grandi ambizioni che governa il paese che però ha vinto adesso una lotta elettorale perché è il suo turno no? dopo altri fortunati è uscito il numero fortunato per la Meloni è un grosso errore bisogna stare molto attenti perché è un investimento a lunga scadenza che rende molto bene se tu hai la pazienza di aspettare che produca i frutti sopportando pure ovviamente tutte le come dire l'autonomia intellettuale degli intellettuali se mi permetti il gioco di parole che però è quello che li contrassegna e li caratterizza altrimenti sono semplicemente fanno parte dell'apparato di propaganda è un'altra cosa da ideologia che è un'altra cosa ideologica anche essa ma cioè da cultura politica hai fatto bene sottolinearlo perché prima di te fare due presentazioni fa abbiamo presentato il libro politica senza intellettuali anzi senza intellettuali il titolo del professor Caravale di Roma 3 e io feci poco questa osservazione cioè io contesto proprio il titolo di intellettuale organico perché se l'intellettuale diventa organico non è più intellettuale che fondamentalmente perde la sua funzione cioè la sua funzione o meglio diventa fedele anziché leale che sono due cose molto diverse la fedeltà ti dice sempre di sì ma magari ti manda sbattere la realtà quando è il caso ti dice no e magari ti aiuta a rindirizzarti però appunto sono molto d'accordo con quello che dici adesso è chiaro che noi viviamo in un'era appunto che è stata definita postideologica da alcuni addirittura postdemocratica e quindi la parola ideologia ha perso la sua funzione da diversi guarda ma poi in realtà se tu guardiamo al nostro avversario naturale che è il PD ex partito comunista PDS ma tu pensi davvero che diciamo il ruolo che gli intellettuali hanno giocato dentro il PC ma mentre dagli anni 50 oggi abbia influenzato così tanto la linea politica del PC prima del PD poi non è così il timore rimane sempre saldamente nei mani dei politici nel senso che intellettuali o si adeguano oppure diciamo si forniscono queste grandi prospettive capito che non possono essere più quelle del novecento ovviamente che è una cosa diversa ma alla fine sono un dio che lavorano sono onesti artigiani che stiamo a lavorare un po' su commissione anche a sinistra cioè nel senso che l'intellettuale intelligente che vuole avere poi tra l'altro uno strapuntino a corte fiuta l'area del momento in punta sul leader di riferimento e sostanzialmente cioè gli fornisce quello di cui c'ha bisogno ma forse è anche giusto così cioè nel senso che la critica la grande riflessione che continuiamo a fare oggi è cioè che quando ecco l'ideologia le grandi ideologie del novecento hanno pilotato il corso della storia sia a destra che a sinistra insomma gli essi sono stati tragici o comunque insomma difficilmente controllabili anche perché le ideologie figliano no secondo me ma questa è la mia correggimi se sbaglio anzi chiaramente cioè non lo dico io lo dicono ovviamente autorevoli e diversi insomma studiosi cioè l'ideologia partorisce un Hitler in Germania quel tipo di ideologia antisemita tutti i docentarismi sono ideologie capito quindi la forza è potente però poi ecco la differenza la fa sempre il leader io penso che un leader politico intelligente non dovrebbe mai avere paura del confronto con gli intellettuali anche perché l'intellettuale spesso è un militante diciamo non dico fallito ma deluso e quindi il suo grande sogno è quello guarda ti faccio un nome ma lo faccio perché lo ambiro Marco Tarchi Marco Tarchi per esempio è l'esempio io lo cito perché lui è un grande intellettuale di destra uno molto onesto però tu conosci bene la sua storia personale e la sua vicenda è emblematica di come non dico che poi l'intellettuale militante diventa ex militante ripiega un po' su diciamo l'aspetto culturale quasi accettando implicitamente che fosse secondario perché la militanza non ha funzionato o perlomeno perché però hai scelto un caso veramente estremo però è eclatante cioè nel senso che capito non dico eclatante diciamo perché tu Marco Tarchi probabilmente sarebbe stato un leader politico dico a livello di fini ma certo da quel poco che abbiamo visto quando la storia è cambiata e si è arrestata lui aveva dimostrato diciamo coi fatti di chiaramente se il politico il discorso è quello di catturare il consenso e non era facile catturare il consenso nel fronte della gioventù o sei meglio di me eccetera beh quelli sono ottimi sono ottimi basi veneziane capito la verità è che poi tu ecco qua anzi qua lo voglio io quando ho scritto questo libro ho messo un po' da parte della militanza la mia ammirazione per tutti quelli che fanno politica tutti è cresciuta enormemente perché se tu studi un po' la storia anche la storia recente capisci che è veramente altro che sangue e merda cioè soprattutto è una fatica estrema cioè nel senso che fare politica in Italia non è come fare politica in altri paesi d'Europa veramente cioè nei paesi più o meno simili in Italia è particolarmente difficile perché l'Italia è un paese difficile l'Italia è un paese complicato è un paese contraddittorio l'Italia è un paese forse iper iper ideologizzato questa è la verità ma dove forse le ideologie più potenti sono quelle sotterranee quelle che non hanno neanche bisogno di avere un'estensicazione politica o partite riconoscibile e quindi chi fa politica sul campo a tutti i livelli si prende una grande una grande fatica un grande impegno specialmente poi di questi tempi dove e Giorgio Meloni anche qua deve stare attenti ma lei sta attenta perché lei è una persona molto intelligente la leadership dura poco evapora cioè nel senso che su questo forse potremmo fare un'altra riflessione in rapporto con gli intellettuali cioè verosimilmente diciamo a destra il rapporto quello appunto che doveva nascere in qualche modo era menato a metà anni 90 era sbocciato diciamo così probabilmente dura anche meno ed è piuttosto appunto conflittuale perché nasce in un periodo in cui già la politica cominciava a viaggiare più sull'istantaneo e sul presentismo piuttosto che appunto sul lungo periodo sulle vision e questo rende in qualche modo più disfunzionale almeno agli occhi del politico avere degli intellettuali intorno magari sono dei rompiscatole magari ti parlano di quello che succederà tra vent'anni e tu non sei ma quello che succede tra venti ore però come dicevi tu prima se non ti attrezzi anche nel medio-lungo periodo e allora la durata dei cicli di leadership si accorcia in realtà perché devi avere è come quello che proprio nel marketing che è un po' considerato uno dei demoni di questa storia ma potrebbe anche essere invece una delle soluzioni c'è chi fa marketing partendo dall'ascolto del mercato e poi dando al mercato quello che vuole ma in quel caso fondamentalmente il brand dura poco hai una fiammata e poi diciamo fatichi a sopravvivere c'è chi invece parte da una sua vision e poi diciamo testa il mercato e magari dura nel tempo pensi a Apple pensi a Disney pensi a Harley Davidson pensi ai marchi mitici eccetera eccetera credo che la politica sia schiacciata nel primo tipo oggi cioè ascolto e inseguo gli sciami dell'opinione pubblica e quindi intellettuale non mi serve ragiono sul quotidiano sul day by day e questo è un problema ovviamente sistemico non solo italiano e non tanto meno solo della destra è un problema diciamo occidentale ormai però è un problema che sicuramente in qualche modo sistemicamente appunto allontana un po' il ruolo degli intellettuali dalla politica secondo me sono d'accordo anche se però diciamo bisogna fare alcune precisazioni per esempio ecco tu prendi prendiamo il momento sociale italiano no? un partito pesante un partito importante eccetera oggi che cosa resta il momento sociale? beh resta però un apparato culturale ideologico che per quanto misconosciuto non particolarmente coltivato è sorto spontaneo quasi sai bene io nel libro lo ricordo quasi insomma contro il volere il controllo di almirante degli altri padroncini del partito che costituisce oggi il retaggio più importante per il suo erede naturale che è Fratelli d'Italia infatti Giorgio Meloni si trova sistematicamente periodicamente in difficoltà su questo perché i suoi avversari le rimproverano ovviamente a ogni piesso spinto di il confronto con questo passato che non è soltanto il passato ingombrante del fascismo che direi ormai più che storicizzato insomma decomposto eccetera ma forse siamo passati adesso siccome è incredibile ma il tempo passa pure in politica al fatto che bisogna forse arrivare il momento di storicizzare il movimento sociale storicizzare però significa soprattutto ecco recuperare questa componente culturale molto importante questa grande dialettica politico-culturale forse più politico-culturale se vuoi che però lo rende un'esperienza politica unica no? e non solo a destra in questo forse è uno dei pochi punti di contatto col partito comunista cioè nel senso che il movimento sociale e il partito comunista sono gli unici due partiti novecenteschi nel senso pieno del termine che hanno però hanno avuto un'importanza così evidente nel loro campo nei loro differenti ovviamente collocazioni eccetera da riuscire a sviluppare anche quando non richiesto e non desiderato e con un piccolo vivaio culturale ideologico attorno a loro magari era anche di critica di rottura eccetera però ecco Marco Tarchi abbiamo citato eccetera quindi su questo bisogna riflettere molto attentamente perché è vero che sembra molto comodo avere un apparato fluido pronto per ogni presentista pronto per diciamo il problema del giorno eccetera ma prima o poi arriva il momento in cui appunto perché l'entusiasmo una limiere finisce le narrazioni adesso si ripetono ormai abbiamo finito il giro perché adesso Fratelli Italia è l'ultimo cioè adesso poi ricominciamo cioè nel senso che ritoccherà al PD ma al PD se si inventa qualcosa cioè un'altra poi queste narrazioni ma che sono sono dimmelo tu io non l'ho capito la mia impressione è che sono francamente dell'ideologia in maniera molto sintetizzata molto capito semplificate anche più cangianti dell'ideologia veramente super schematizzate che cercano di innestare di accendere di accendere nelle persone in alcuni strati con tutti della società alcuni di premio alcuni pulsanti per per riproporre quello che poi è quello che cioè che perfino la democrazia cristiana secondo me che adesso io sto lavorando sul terzo volume in cui parlo in cui vorrei analizzare anche il misterioso fenomeno della destra democristiana se mai esistita secondo me no ma te lo dico quando ho finito di fare ricerche di scrivere il libro e nonostante tutto la spinta ideologica è potente lunga no quindi l'ADC si è morta per costruzione sotto tangentopoli sotto diciamo la la secolarizzazione della società italiana però la puoi vedere anche dall'altro cioè se la vedi dall'altro lato è un partito che ha avuto una grande spinta politica ideologica non lo so dimmelo tu l'ultima il compromesso storico di Boro ma forse no perché quella è un'altra cosa perché in realtà l'ADC era più uno strumento che un attore protagonista e quindi è un discorso piuttosto in realtà l'ideologia serve e molto ma anche se la vuoi declinare perché l'ideologia sembra quasi via di vita propria percepisce i momenti storici in cui non va di moda allora si nasconde diventa narrazione diventa un'icona tipo Steve Jobs che fa il famoso discorso lì eccetera ma quella è sempre ideologia e ti dirò di più e infatti su questo addirittura voglio scrivere un altro volume spero prima che i miei figli fanno all'università quella tra l'altro è l'ideologia che noi dobbiamo studiare con più attenzione perché dietro c'è il legittimo sospetto che ci siano degli ambienti insomma io le chiamo destre occulte insomma in maniera molto immaginifica ne fornisco anche una definizione schematica nel secondo volume e mi riferisco alla steggia dell'attenzione alla P2 e tutte queste altre diciamo realtà storico-politiche molto difficili penso che anche oggi in realtà noi dobbiamo stare molto attenti perché ci sono altri ci sono persone sfruttando i media le innovazioni tecnologiche che ci forniscono delle ideologie a loro uso e consumo che ovviamente però hanno sembianze diverse non è più il libro nel capitale di Marx non è più diciamo i bracci di Evola è una cosa diversa molto più liofilizzata molto più liquida molto più evanescente che però questo per esempio il politiente corretto che il politiente corretto è l'unica ideologia di sinistra che trova spazio nel mio il mio libro nel secondo volume e sai perché? Perché è l'unica che creata quasi dal nulla ha avuto la sorprendente rapidissima effetto di creare una controideologia che secondo me è il sovranismo il sovranismo è soprattutto una reazione immediata e violenta al proiente corretto quindi per capire l'uno bisogna un attimo partire dal secondo e il proiente corretto sì è molto diverso da qualsiasi ideologia di sinistra che abbiamo conosciuto prima ma certo non mi puoi dire che appunto ha capito alcun che è di conservatore moderato è comunque figlio della new left americana assolutamente che e anzi appunto che come sempre siccome poi è un gioco di specchi metaforico anche affascinante non diventare troppo affascinante perché sennò poi tendi veramente a usare questo binomio destra-sinistra per mappare tutto il mondo conosciuto invece anche sotto in Poliglia ci sono delle zone d'ombra difficilmente definibili quindi questo per esempio io che sono io sono un assertore io sono un grande io sono un entusiasta sostenitore della categoria destra-sinistra combatto fieramente tutti quelli che la danno per morta secondo me mentono mentono spesso perché anche questa in realtà è un'ideologia essa stessa cioè tutti quelli che i cantori che la destra e la sinistra non esistono più sono morte sepolte hanno un loro piano ideologico a spese tue per cui ti vogliono convincere che infatti lo diceva anche il Pio Mussolini perfino il primo Salvini cioè la storia si ripete è piuttosto noiosa però quindi lo diceva Le Pen lo diceva Beppe Grillo l'hanno detto un po' tutti ecco in questo gli intellettuali possono e devono fare di più perché se c'è qualcuno che ha il compito e anche secondo me diciamo è il compito storico di fare il futuro di altre poche realtà no simili a queste cioè cercare soprattutto di di parare la matasse di fare un po' d'ordine no e di cercare anche di individuare quali sono poi diciamo le direttive le direttive che spesso si sono sempre poi fabbricate ripeto a uso e consumo del gruppo politico di turno oppure di chi ha un piano chi ha un obiettivo insomma però insomma è sempre con questo capito non è giusto che ce l'abbiano anzi speriamo che l'abbiano hai citato a apple con steve jobs eccetera ma quella no i film non è un'ideologia una nuova ideologia c'è un video bellissimo del 97 quando lui torna ad apple dopo che era stato mandato via dall'amministratore delegato che ha chiamato lui da da pepsi lo richiamano disperati perché apple stava per fallire e lui lancia la famosa campagna think different quella con Mandela Gandhi eccetera eccetera e fa un discorso al suo top management in cui fondamentalmente dice se c'è una cosa che distingue un marchio come il nostro dai nostri competitor non è la qualità dei prodotti magari sono meglio quegli altri non è neanche l'estetica è la vision l'idea di fondo che è di fatto un'ideologia cioè una credenza condivisa di lungo periodo quella per cui io credo e mi fidelizzo al marchio apple a prescindere poi dal tipo di prodotto e questo la politica l'ha perso mentre la politica ideologica ce l'aveva perché il voto era stabile perché c'era un credo come dire forte oggi la volatilità aumenta perché quel credo è effimero anche perché spesso in una persona non più in un'idea e appunto subisce queste evoluzioni continue del presente questo consumare dei leader per questa ragione appunto condivido con te infatti vedi ma questo sono assolutamente d'accordo cioè al punto tale uno potrebbe anche porsi in dubbio drammatico che vedi che a volte l'ideologia non ha più bisogno della politica perché se un'azienda è uno come Steve Jobs che certamente sapeva del fatto suo ma era così è stato rappresentato uno che manipolava la gente manipolava i dipendenti manipolava i mercati manipolava i soci eccetera eccetera e quindi era in questo super ideologico lo schema è sempre lo stesso no? cioè nel senso è la cosa la cosa affascinante ma anche se vuoi un po' drammatica è che le formule possono essere diverse no? e possono essere sia distruttive che costruttive perché se io pianifico secondo me proprio a tavolino di prendere il potere oppure di vendere il mio prodotto oppure di convincere la gente che in fondo scusa faccio un esempio forte e probabilmente scorretto di convincere tutti gli eterosessuali maschi alfa che sotto sotto ma in realtà potrebbero essere omosessuali beh ecco c'è una potentissima impostazione ideologica che poi altro viene da lontano questo parliamo del movimento omosessuale gay lesbo eccetera un movimento politico-culturale ideologico che ha iniziato la sua battaglia forse alla fine degli anni 70 e adesso se ne vedono i risultati hanno fatto un magnifico lavoro stanno vincendo tutta la linea diciamo che tutti quelli che stanno dall'altra parte sono evidenti difficoltà ma in termini ideologici soprattutto perché oggi mentre è forte questa ideologia del fatto che basta la amore per costruire una famiglia non ci vuole un uomo una donna la famiglia tradizionale è un orpello è una cosa vitusta quindi dal passato beh questo se molta gente si convince di questo e perfino gli assertori della famiglia tradizionale hanno quasi paura di alzare la mano di dire la propria è il risultato di una guerra ideologica senza quartiere in cui c'è un vincitore e uno sconfitto il vincitore è evidentemente il movimento anche scusami poi mi taccio il movimento degli omosessuali è così forte ideologicamente che adesso non sa più cosa inventarsi devono ovviamente alzare ancora più la sticella no? perché se no non avrebbe un movimento senza ideologia un partito senza ideologia senza obiettivi senza una visione da imporre da proporre perde non ha più senso nel senso il partito politico può rimanere può gestire il potere però dopo un po' poi si spegne pure questo un movimento politico-culturale ideologizzato come questo ma ce ne sono anche altri non può permettersi il lusso di far scendere la temperatura della guerriglia ideologica perché altrimenti intanto però incide sulle nostre vite e sono sulle vite sai cosa negli Stati Uniti dove tutto questo è stato anticipato fondamentalmente e ormai abbiamo diversi autori intellettuali di sinistra che criticano queste derive di sinistra e quindi diciamo sono entrati tipo Mark Lilla o Jonathan Haidt sono diversi autori che sono tradotti anche in italiano ormai la criticano però perché dicono appunto l'estremizzazione è politicamente corretta che cosa porta a vivisezionare la società in una miriade di identità quasi personali cioè del narcisismo dietro queste operazioni per cui tu alla fine queste entità cominciano ad andare in conflitto tra loro ovviamente e quindi c'è le donne che si arrabbiano giustamente se il trans compete con le donne e quindi diciamo scateni femministe contro cose del genere e allora dicono loro che succede arrivi al paradosso per cui ed è accaduto ormai palesemente in diversi campus americani anche prestigiosi per evitare problemi legati al linguaggio perché da lì nasce il politico corretto tu hai le free speech zone nell'università cioè puoi parlare liberamente solo in alcune aree come le aree fumatori pazzesco è pazzesco perché l'università dovrebbe essere il regno del pluralismo e della libertà di pensiero e chiaramente adesso un po' di autori professori universitari americani che hanno il terrore di quello che dicono in aula giustamente cominciano a ribellarsi dicendo attenzione perché se è il liberale diciamo Trump se diciamo non condanna l'attacco a Capitoli è altrettanto il liberale chi censura la parola nell'università quindi è interessante vedere questi sviluppi di solito l'America anticipa queste cose quindi sono curioso di vedere che cosa succederà anche da noi tra un po' però l'altra cosa interessante che appunto destra e sinistra visto che abbiamo l'abbiamo citati tante volte nel novecento pieno erano facilmente distinguibili su delle tematiche anche grosse in politica estera era chiarissimo in politica economica abbastanza la sinistra era più interventista più statalista la destra un po' più in Italia mai del tutto liberista ma quantomeno più pro privato eccetera oggi su questi grandi temi c'è confusione puoi trovare destre che nazionalizzano e sinistre che liberalizzano destre filo russe e sinistre filo atlantiste eccetera eccetera e quindi resta quest'ultima grossa spaccatura cioè non è un caso che oggi appunto Semeloni deve dire in quattro parole qual è la sua diciamo appunto visione io sono Giorgio sono una madre sono una donna sono italiana sono cristiana che è la risposta proprio alle parole d'ordine nel politicamente corretto quindi è interessante perché in realtà è proprio uno scontro sui valori quello su cui si decide oggi il crinale tra destra e sinistra prevalentemente più che sugli altri temi sono d'accordo anche se poi bisogna però fare una considerazione generale cioè nel senso che è un po' diverso per il radicalismo no? quello che voglio dire è che io ho sentito il bisogno di compensare un po' nel secondo volume per esempio l'analisi su vari soggetti politiche di destra radicale radicalismo di destra uso questa definizione non mia perché pur essendo magari movimenti insignificanti dal punto di vista elettorale e politico hanno messo in campo delle idee che poi hanno avuto più o meno fortuna o sfortuna a seconda dei casi ma soprattutto il problema è che non c'è nulla di meglio di idee principi valori e obiettivi radicali per costruire un'ideologia no? che diventa così forte e potente per cui fa sempre semprarare grigie sbiadite non so l'ideologia o la parola ideologica di movimenti di centrodestra mainstream moderati e conservatori che appunto non hanno contenuti rivoluzionari o pseudo rivoluzioni da offrire per catturare l'immagine collettivo questo è molto pericoloso è è altrettanto un problema nel fatto che sì che le ultime l'evoluzione ultima che secondo me appunto abbiamo detto è questa qui di diciamo per schematizzare il proiettivo corretto sovranismo no? quindi Trump da un lato e tutti ma con tutta una serie di di variazioni sul tema che non serve troppo lungo da dire ma prendiamo Trump che è il più il più visibile il più riconoscibile è il confronto è sempre su contenuti radicali e radicaleggianti con tutti i rischi del caso perché abbiamo visto se torniamo al secolo ideologie no? come diceva Brager ogni ideologia che si nutre di un apparato sostanzialmente radicale è doppiamente pericolosa perché chiaramente vuole creare insomma vuole fidelizzare vuole insomma renderti fanatico convinto al cento per cento è un po' più difficile no? convince la gente che appunto l'ideologia migliore è quella non so di un centro moderato che guarda a destra ecco in questo esempio Forza Italia Forza Italia che io non metto faccio un esempio io non lo metto a destra perché non è un soggetto di destra lo dico tanto i suoi avversari del momento perché poi cambia un'idea perché Berlusconi pur anche se probabilmente ha importato la comunicazione politica in questo paese non è se l'ha inventata l'ha proprio portata lui eccetera però poi ecco alla fine dopo i primi il lancio del prodotto è stato costretto ha fatto una scelta tutto sommato incomiabile secondo me quella di la decisione che gli conveniva di di immettere nel circuito dei contenuti radicaleggianti perché lui Berlusconi non è un radicale Berlusconi è un moderato Berlusconi è un imprenditore un uomo che fa affari quindi per fare gli affari ci vuole la pace sociale e il radicalismo non aiuta la pace anche se però è sempre a destra come a sinistra un dispensatore infinito di nuove prospettive nuove immagini nuovi obiettivi che poi passano con molta disinvoltura a volte da destra a sinistra l'abbiamo 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 visto io nel secondo esempio ho scoperto un po' alcune esperienze marginali di destra radicale che però hanno creato secondo me quel terreno che io definisco un neuroregalismo di destra da cui secondo me questa è la tesi che svilupperò cercherò di sviluppare nel terzo volume quel neopopulismo di destra che per esempio ha spostato definitivamente la Lega dal centro estremo di Bossi a una destra populista e liquida in cui con la quale Salvini ha vissuto i suoi momenti di gloria e quindi tu vedi che insomma questo radicalismo di destra ma a sinistra è la stessa storia l'attuale segretario del PD viene presentando da come una donna radicale che strizza l'occhio no alle sinistre del PD che serve evidentemente per completare il riassorbimento dei 5 stelle che sono una costola di sinistra populista del PD ma se tu leggi per esempio il libro di Giorgio quel che è rimasto di 5 stelle è quella costola lì esatto perfetto ma eppure Giorgia Meloni se tu leggi con attenzione il suo libro che è molto interessante no adesso non importa se l'ha scritto lei se l'ha scritto a tre quattro mani eccetera lei secondo me io penso non voglio non voglio pensare inconsapevolmente perché la stimo troppo eccetera però gioca questo gioco perché sa che funziona no e si propone alle destre radicali in particolare Casa Pound perché c'è questa simpatia profonda proprio come dire secondo me c'è questa proprio sintonia tra l'Italia e Casa Pound no che viene adesso ovviamente adesso viene occultata ma non perché è occultata sì ma vedrai però se tu leggi ecco se però tu leggi cioè a me la cosa che mi ha colpito molto infatti l'ho scritto cioè Giorgia Meloni giustamente lei si presenta come li colano di tutte le destre lei parla anche della destra radicale adesso forse un po' meno perché preferisce parlare a Macron a Joe Biden ma lei dice tutte le destre radicali che esistono per quanto sono adesso diciamo sminuzzate capito diminuite e pochi evidenti io rappresento anche voi io sono rappresento tutto lei c'è una pagina bellissima che io cito le dice perché parlando apparentemente dei suoi avversari dei suoi detrattori in realtà lei si identifica proprio con quelli dice perché a me vedono una che a me metteva le bombe nelle stazioni una che ha sfruttato le donne lei una che ce l'aveva con gli ebrei una che eccetera fa questo gioco ideologico secondo me anche di comunicazione dimmi tu quale può essere la chiave di lettura migliore che però è sempre lo stesso cioè nel senso che il radicalismo paga perché colpisce l'immagineo collettivo lo colpisce così tanto che se poi diventa azione politica appunto non può che essere che concretizzarsi in azioni appunto radicali radicali che poi il passo successivo è l'estremismo e le versioni e poi lì mentre che sale la temperatura e lì veramente allora poi la democrazia viene messa un po' in a dura prova ma infatti diciamo questo fenomeno della polarizzazione di cui si parla tanto più o meno è questo e dato che l'essere umano è gruppista per definizione che per catturare l'attenzione oggi perveno non servono contenuti ad alto impatto emotivo questi rischi ci sono non da noi ci sono in tutte le democrazie diciamo occidentali però mi incuriosisce perché tu non metti Berlusconi a destra cioè diciamo forse Italia a destra ma perché la metti al centro considerando un centro politico suppongo sì no io poi parlo giustamente di Berlusconi come il demiurgo secondo me lui poi in realtà ma adesso sintetizzo in maniera molto approssimativa insomma certamente lui il regista della gemmazione del miss in alleanza nazionale è lui lui che non è di destra ha fatto più di lui per la destra ma ha fatto assuso il consume però francamente no Forza Italia io la lascio al centro è un centro paraprasando dei gas se è possibile che guarda a destra appunto no Berlusconi guarda quella destra anti-antifascista questa categoria che sembrava sparita no dal palomato italiano lui riesce forse inconsapevolmente la vita no perché lui prende tutte ma veramente tutte le destre anti-comuniste anti-pc anti-sinistra che trova sul mercato riesce in qualche modo a fonderle insieme e produce una coalizione politica che ha vinto le elezioni più di una volta no però secondo me il sogno di Berlusconi era Tatcher e Reagan era un'altra destra ma era una destra cioè probabilmente dipende dal criterio che individuiamo per definire cos'è destra se la destra è nazionalista no se la destra è libero mercato guarda io io penso di no se non altro perché poi Berlusconi a Berlusconi piace vincere lui capisce bene che questo modello in Italia è difficilmente realizzabile perché no quello però diciamo il suo sogno forse più o meno socialmente politicamente è troppo complicato da 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 realizzare e soprattutto poi non vinci le elezioni questo è il punto perché lui vuole vincere le elezioni cioè del resto capito gli importa poco non non quindi è costretto a cambiare un po' l'identità politica del del di Forza Italia in corsa perché si rende conto che non funziona cioè nel senso che non 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 paga lui vuole vincere addirittura fa questa operazione pure di portare Forza Italia nel partito popolo europeo che ti assicuro io io c'ero all'inizio di Forza Italia sembrava una cosa assolutamente impossibile cioè nel senso che lui quello che capiziosamente suggeriva è che in realtà la DC era parte integrante di questo vecchiume da buttare eppure però lui da grande pragmatico capisce risolve conclude che in quel momento tutto sommato è la cosa migliore da fare e la fa serenamente tranquillamente non è che si pone il problema tanto sarà sempre lui a risolvere a fare la campagna elettorale a affrontare la questione del giorno non ecco forse se c'è un partito veramente a basso tasso di ideologia è proprio Forza Italia nel senso lui capito anche il PPH c'è chi li colloca a destra non per forza cioè oggettivamente noi italiani siamo abituati a pensare che esista un centro politico nel resto del mondo distinguono quasi tutti tra destra e sinistra quindi c'è probabilmente la differenza è lì anche in Spagna il partito popolare per noi è centro ma per loro è destra perché Berlusconi lui il problema a destra e sinistra non se lo pone minimalmente lui semplicemente vuole i nemici lui vuole sconfiggere i suoi nemici ma non dico che poteva essere il contrario questo no però guarda io penso che Berlusconi verrà rivalutato anche dal punto che noi lo sottovalutiamo è sempre stato sottovalutato io non penso che lui non ne sia consapevole è proprio che lui se ne frega cioè se ne frega perché pensa che non funziona cioè nel senso che in questo porta forse anche questo se vuoi è un approccio ideologico diverso dalla politica dicendo in politica bisogna vincere le elezioni no quindi in realtà gli spostamenti la modulazione politico-culturale eccetera è veramente ma più che ancillare proprio terziaria non secondaria rispetto alla necessità del momento alle convenienze del momento lo fa in maniera spregiudicata forse sì però veramente anti-ideologica quindi allora tutti i sostenitori da molte ideologie Berlusconi li dovrebbe provare un po' bene perché se c'è uno che ha dimostrato che in fondo le ideologie sono sono finite o comunque non sono più così non hanno più validità è lui no a te che infatti ecco proposito di intellettuali la bella operazione del PDL no ma lui la sfascia in 30 minuti ovviamente sale sul periodino di una macchina e con l'intuizione del momento vanifica un lavoro di mesi di anni molto interessante fatto diciamo dalla parte migliore capito della cultura di destra e di centrodestra perché sente che la cosa giusta da fare perché si sente ecco sempre pericolosamente in sintonia piena con l'elettorato con il suo elettorato con il paese perlomeno con quella parte del paese che volente o non volente guarda a lui perché non sa a che santo rivolgersi e lo fa e la reazione degli intellettuali è furibonda cioè nel senso che a parte i colletti insomma che qualcun altro che viene imprimiato con un altro carico istituzionale ma giustamente quelli si indignano dicendo ma come noi siamo qua che lavoriamo cioè rompe anche quel minimo fragile compromesso che c'era stato prima tra tra politica di destra o di centrodestra e gli intellettuali un fragile compromesso che i politici di destra e di centrodestra hanno sempre distrutto proprio l'ultimo fini con futuro e libertà fa questa operazione si fa aiutare da da altri intellettuali di grande spessore che recuperano il sogno ecco come dicevi tu la destra gramsciana il fascismo immaginario questa avventura incredibile secondo me irrealistica di futuro e libertà che infatti viene distrutta viene azzerata elettoralmente no? ma fini poi lui va oltre perché non il politico non fa quello che pensa essere giusto ecco forse i politici italiani tutti sono tutti troppo presentisti sono presentisti dentro però anche questo se vogliamo ma dimmi tu se esageriamo beh vuol dire che sono stati contaminati anche da queste ideologie anche loro perché se tu poi sotto sotto sei convinto che no? anche se poi magari li hai valorizzati Fimi tu lo sai no? voi lo conoscete bene cioè abbiamo uno come Campi che ha fornito un apparato politico ideologico di primo piano che poteva veramente essere il secondo tempo il terzo tempo di alleanza nazionale io parlo anche di questo ma lui alla fine la tentazione la la coazione quasi no? a fare quello che sembra giusto in quel momento particolare per avere un ritorno no? che addirittura neanche vince le elezioni proprio per avere quel momento di gloria mediatica oppure di avere la soddisfazione di mettere in difficoltà è tale per cui tu valifichi lì sono entrate tante variabili diciamo in campo anche personali non lo so questo beh due mesi di titoli sulla casa di Monte Carlo sui due giornali di Berlusconi non hanno aiutato i rapporti no assolutamente però se fosse stato più cinico più tattico avrebbe aspettato avrebbe probabilmente diciamo però l'operazione di futuro di libertà seguiva una sua dinamica che non poteva che essere autodistruttiva cioè nel senso ma anche qui poi nel senso il discorso è un po' è sempre lo stesso ecco invece Giorgia Meloni lei corre lo stesso rischio con Fratelli d'Italia sì e no sì perché il partito ha una non ha una connotazione politico culto ideologico chiara sembra volutamente ambigua nonostante si potrebbe osservare sì dice ma lei in Europa diciamo ha fatto questa scelta conservatrice ha questo ruolo importante prestigioso eccetera ma non basta no e dall'altro non ne ha bisogno perché lei poi si giova di una militanza in questo veramente post-missina perché sono imbarazzanti io conosco gli ambienti Fratelli d'Italia cioè il culto da personalità che di cui Giorgia Meloni gode ma veramente guarda ma non solo ha battuto Almirante ma perfino Mussolini deve stare attento no perché cioè lei viene paragonata a Giovanna d'Arco fonti scritte forse solo Berlusconi può superare scherzo però dobbiamo chiudere Rodolfo però hai ragione hai ragione ma questo dato appunto non riguarda il dato della personalizzazione della politica ormai è un dato che in Italia ha coinvolto tutti cito solo questo sondaggio che è stato fatto proprio il giorno delle elezioni dalla Bocconi 25 settembre scorso allora l'ottantatré per cento di chi ha votato Fratelli Italia ha votato in realtà per Giorgia Meloni quindi l'altra opzione era nel partito il programma e nei cinque stelle addirittura il novantuno per Conte quindi diciamo ovviamente il settantatré di Forza Italia per Berlusconi cose simili quindi diciamo questa ovviamente è una tendenza che va avanti da un po' e in Italia siamo diciamo i campioni dei partiti personali per ragioni diciamo anche storiche recenti però hai ragione questa come dico io spesso i leader sono croce delizio ormai dei partiti sono quelli che ti possono portare alle stelle sono quelli che poi ti possono portare per ragione appunto di brevità del ciclo anche in basso vediamo se Giorgia Meloni avrà la forza di reggere credo che su questo un lavoro sulle destre un lavoro intellettuale che guardi appunto al medio lungo periodo possa essere importante non abbiamo il tempo neanche per le domande quindi ringrazio tutti quelli mi dispiace è colpa mia che mi sono tanto stai lavorando ad altri tre volumi avremo modo di rivederti vi ringrazio ringrazio molto e ci rivediamo al prossimo volete va bene ti saluto chiudo buonasera a tutti grazie 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 grazie